Ok ragazzi ci siamo Ma oggi ragazzi siamo con la mamma Ciao Allora oggi dobbiamo fare questo punto Che ci ho provato un miliardi di volte e ho sempre fallito Ma oggi ce la faremo Ma oggi ragazzi ce la faremo Allora io cadevo sempre quando dovevo saltare lì Perché sto cavolo di tubo mi bloccava Si blocca Oh grazie al cielo che ero caduto come sempre Ma non ho male che finalmente sono caduto in sto tubo Perché cadevo sempre giù Stavo cadendo Vabbè cosa devo fare ora Vai avanti Devi girare Sì La manovella non lo so Ci provo Ci provo Ci sono ciotta d'acqua Ho fatto una figura di merda Questo Questo Dovremmo correre Dovremmo correre Da lame Lame della morte volanti No No Aia Cisce Tutte Adesso via No Non sopra Giù Giù No Non c'ho più ossigeno No Ma siamo sotto acqua Aia No 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 Stacamo sono stati bravi? mamma ci stai lì? non ti sente nessuno? siamo stati bravi mamma non sei grassa ok vedete che sono messa adesso non più ho visto qualcosa in metallo non è che si può rompere perché non si rompe ma che? no ok che siamo sexy però adesso non le porto che sono? selfie selfie ah sexy con la mia tuta sono sexy come si fa vedere? guarda poi vede un pezzetto della mia tuta il guanto ma che è il guanto? ma sei tutta umita sta tuta non c'ho lo specchio no ammazza se ci fosse uno specchio non ti farebbe vedere il questionaggio perché? non lo so non so sti robot eh? non so sti robot? eh sono le... della morte volanti oh perché è partita una musica strana buongiorno ho portato le picce quelle che avete ordinato hai quattro formaggi e quattro stagioni no l'ho portata al formaggio hai quattro formaggio? ah ti aiuto io con quei succhiapestri ah ti è piaciuto? è prima vero? si? si siamo noi è arrivato in un brutto momento perché? black belt è questa stazione 6 mi sentite? il dottor Freeman sta accendendo il fiume date il litro scivolante e tutto l'aiuto che potete ripeto è che mi danno un veicolo? siamo noi si abbiamo punizioni in quelle casse lì eh siamo sei tu rifornimento e prosegua ok proseguo ah era un'affermazione sembra una domanda ma no ok ci bombardano ma addirittura max eh buongiorno io sono Gordon Freeman mi piacerebbe riconoscerti ah che è scritto che è scritto oddio santo no no scusa pensavo che è uno Johnny ci siamo sconfuso dio santo che schifo basta basta è morto lui il personaggio di Taku di Taku no eh buongiorno signori come va? buongiorno vabbè stanno bene eh stanno meraviglia ma quelli non c'hanno pensione c'hanno oh my god beh a me non siamo comodi no questo è un filo elettrico ma io ce lo evitiamo madonna che spaventi che mi potete prendere ciao tutte le scosse meglio ce le evitiamo oh mio dio ciao chi siete voi? ma vanno tutti nella scossa oh mio dio oddio mi hai fatto prendere un achiletto io so ed basta beh a me non ci ho fatto male no e guarda c'è buggato nel terreno tubo tubo che schifo ma si ma ci vado dentro muoio? eh si schifo ma ma per la vita ma come ho detto ha schifo ma come è possibile è contaminato fino di cattere alessio no alessio no di quel punto eh hello hello ah è ora aspetti va bene grazie ah si va bene ecco fatto grazie vada ora vada ora lo dice tua sorella no ah eh guaci i megafty yeee Documentate può andare anche sulla terra b appena ha detto di andare alla stazione 7 e al pienine rosso e che ne so io non conosco no 10 si 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 esatto no ti chiamo si ho cantato mentre saltavo ma tanto questo non si può rompere sembra fatto con materiale riscato acqua pericolosi siamo nel quarto capitolo oddio c'è gman è un po più pulita l'acqua si è vero aspetta la voglio bere sì ma l'acqua di mai fa veramente stifo che non è male e lo so il fiume film largo che ne so cos'è no non l'anno lago non è anche la conosco questa parola è un fiume è un fiume eccolo ciao ciao bello buonanotte tagliate le ore no non voglio fare la pedicola la persona volevo sapere com'era o buongiorno allora vediamo la mappa io in teoria dove voglio essere qua qua e in teoria dove andare dal nascondino di ilai che è qua 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 dove c'è il mirino mi devo fare tutto sto tragitto questa è la stazione 7 qua c'era il pienio rosso e qua c'è il mio dirai è un bel po di strada e mi c'è che non c'è a faccio in un episodio allora però tanto oddio ho faccio una testata aia che spavere mi sono cagato addosso ma battene via che mi hai fatto cagare addosso ci siamo spaventati che è mancato poco che non mi vedeva non si vedesse munizioni che è andale che è andale che è andale che è andale